Per il ponte dell'Immacolata sono 7 milioni gli italiani che trascorreranno almeno una notte in strutture turistiche, secondo ConfCommercio, per una spesa di circa 2,7 miliardi di euro. Numeri in linea con lo scorso anno, anche se si riduce la spesa media. In aumento le vacanze all'estero, specie tra i giovani. Confeser Centi stima che per il ponte sia stato prenotato il 74% delle camere e strutture disponibili in Italia, dato in ascesa rispetto al 2022. 6 miliardi di euro il giro d'affari stimato da CNA. Era l'ultima notizia per questa edizione, adesso una breve pausa e poi Sport.